Quindi, come riuscire la moksha? La moksha non dal tuo corpo, la moksha dal sangue La gente viene per ottenere la moksha, per ottenere la liberazione da questo luogo La gente viene per ottenere la liberazione da questo luogo La rivera Ganga, la God of the Mother, Ganga Mata, significa God of the Mother, Priyagraj in Ilhabad You heard the name, Priyagraj? Yes Three rivers are coming here in one place to take there, moksha is also there Priyagraj, Ushkar is Guru All are God of the Guru Without Guru, you can't take the liberation from this place Which way is the best to take the liberation, to break the samsara and get to the moksha? Just you come to here, make worship in this place Okay And take the mantra from this place Yeah And you make in meditation from yourself And if you don't do these things, you have to reincarnate? No, no, no Any place, anywhere You come here, reincarnation People are just to come in this place And keep the water in your eyes for your head And you can take the hope Any places you can go to make the sadhana You know? But just you come here to this place You can take the... Just you can see this place You take the liberation You say You say You just go here to Pushkar To get the liberation From the samsara And reach the moksha What, what is happening during the reincarnation? What is happening during the reincarnation? What is happening when you should leave your body? What is happening during the reincarnation? What is happening when you should leave your body? Sì. E tu mati. Cosa sta succedendo con il tuo Sula? Questo è dal passato. Puoi fare alcuni buoni e alcuni buoni. Puoi venire qui per spendere il tuo tempo, con la permissione del Dio. Sembra permissione non puoi fare nulla cosa. Ora puoi prendere l'aria dal tuo corpo, dal Dio. Chi decide la prossima incarnazione? Dal Dio, dal Dio Shiva. Il Dio Shiva ti dà un nuovo corpo? Il creatore del Brahma, preservare il Vishnu e destruirà il Shiva. Il Brahma fa il creatore in questo posto. Ma quando ti lasci, il suo Sula lasci il corpo. Chi ti dà un nuovo corpo? Dal Brahma. Il è il creatore. Il prende la decisione di dare un nuovo corpo? Con il tuo karma. Con il tuo karma. Allora praticamente dice che quando si lascia il corpo, ci sono gli dei che decidono la tua nuova assegnazione a seconda del tuo karma. Tutti i suoi di loro. Una volta nei cattori, in ogni cattori, in ogni cattori. Il tutto il questo posto ha una decisione di fare dal tuo karma. Il tuo karma è stato fatto. Il tuo karma del buon, ed il tuo karma è lo stesso. Il tuo karma in ogni cattore. Il tuo karma è lo stesso. si può prendere tutte queste cose ma tutte le sofferenze che sono in il mondo in questo mondo c'è un sacco di sofferenze chi è feeding queste sofferenze questa è l'energia chi è comenta queste sofferenze solo da Dio Dio è comenta queste sofferenze crea Brahma G-O-D sta dicendo che la sofferenza generata dal mondo viene in qualche modo presa dagli dai naturalmente loro non hanno idea di tutto ciò che noi abbiamo scoperto non è che gli posso anche mettere davanti tutta questa roba qua non è sufficientemente preparato per capire queste cose però mi interessa sapere la loro versione dei fatti ecco qua quindi grazie mille e qual è il fatto che viviamo in un'illusione Maya Maya è diverso Maya è che si può prendere il sadhana e ti prendere Maya Maya è un tipo di Maya ma viviamo in una simulazione o non? sì perché? questa è la permissione del Dio Dio vuole che viviamo in una simulazione sì grazie mille ciao grazie mille To which God this is? Brahma lake. You know Brahma? Creator Brahma. Lake of the Brahma. Brahma is a creator. Vishnu is the generator. And Shiva is the destroyer. The first place is the Brahma. This is Pushkar. What kind of meaning Pushkar? Pushkar means flower and ker like a hand. Brahma hand. Throw the Brahma flower and Pushkar. What do you think about the fact that we live in a Maya? Illusion. No, I don't live in Maya. No? No. Where do you live? Ram Ram. Ram Ram? Only Ram Ram. What it means? What it means Ram Ram? Om Namah Shivaya Ram Ram. Om Namah Shivaya. This is a Mahamantra. Om like a sound of the universe. Yes. Namah. Neh. Me and myself. Shivaya. Everything is yours. Okay. This is... Who built the universe? Who made the universe? Brahma. Brahma? Brahma is a creator. Yes. Vishnu is a generator and Shiva is the destroyer. But if this is an illusion, for what we are here? Brahma. You don't know this answer? I can't speak very far, bro. I speak a little bit. Thank you so much. Live man dead with karma. God gives you a new body. When we die, God gives us another body for the second of the karma. And you are sure this is because of the karma? Yes. When people would karma, they made people, human, and then bad karma in animal. Well, we discovered that it's not really like this. We discovered that it's a trap. It's just to produce sufferance. Thank you, Angedo. Yes. We discovered that the reincarnation is because they want to suck our sufferance, the gods. No, if people do the good karma in their life, they get the rebirth as a human being. If they do the bad karma in their life, they got the incarnation or rebirth in the form of many animals. Animals? Yes. And for which reason there are 8 billion people now in the world? Because they all have done some good karma in their past life. In which world? Which? In another world? No, no, in, yes, in the ancient time they had done the good karma because... But in the ancient times we were much less than now. No. How not? Now we are 8 billion, before we were some million. But as per the mythology or as per the rituals or as per the books, as far as we can know, we only know that a soul get birth around 84 times in an entire journey. So we are here just to pay our karma. Yes, we are here just to pay our karma. And you think this god which is just making pay the karma of the people is good? I can't understand. It's just suffering. No, everyone is suffering. Everyone has some pain in their life. No one is perfect. No one is 100% happy in their life. So how to get out from here? How to get out from here? Why you want to get out from here? Because after the 84 times of a birth, in a different category, after 84 times of birth, people get this life. I want to get out of here because of this reason. You read here? Maya. I want to get out from here because this is an illusion. No one can't get out of this. No? No one can. There is no way? There is no way. So this is a trap? This is a trap, you can say. We can say this is a trap? Yes, exactly this is a trap. Because this is the most important thing. People come here for the good karma, but they fall in the trap of this Maya. Okay, I'm telling you for what reason we are here. I'm telling you for the karma. I'm telling you, well, why are we so many? And he says, why are we paying the karma? I'm telling you, well, the math doesn't give you a reason. But in any way, you don't seem to be in a trap. I said, no, why? I said, because I showed you my tattoo, where it's written Maya. I said, we're in a simulation. He said, yes, you're right. We're in a trap. And we're here. So how to escape this trap? See, Maya is a trap. Greed is a trap. But if you are earning for your livelihood or for your daily needs, that's not a trap. If your needs are like $100,000 for a month, but if you are still working and working hard for $10,000 a month, $50,000 a month, then this is a trap. If you are satisfied at $1,000 per month, that can fulfill all your needs, then it's not a trap. It's just a living hood. You are getting your life better. You are doing, you are supporting your family. But you are anyway inside a simulation. I can't understand a simulation. Illusion. I can't explain about the illusion because I don't have any idea about the illusion. What we see is not true. What we see, actually, we have not seen the God. We have not seen the soul. But still we believe. That there is God, there is soul. We have not seen the bad, the good streets. But the matter is not real. It's not materialistic, you can say. It's not materialistic. Things are not always... Okay, but we live in a world in which what we see and experience is not real. No. So how you can pay your karma in a world which is not even real? Come fai a pagare il tuo karma in un mondo che non è nemmeno reale? Che è una simulazione. Cioè, questo è chiaro. Che è una simulazione. Nel senso che ciò che noi vediamo e osserviamo non è realmente tangibile. Non è realmente tangibile. Maia un baratari, maia un baratari, maia un baratari. Maia un baratari, maia un baratari. Maia un baratari, maia un baratari. How to get the moksha? How to get? Moksha. Moksha ki prabti. Moksha to... Pratma cannovole. For moksha you have to pray very hard. You have to pray. Per raggiungere la liberazione, la moksha, bisogna pregar. Pregare in simply life. Pregare duro e vivere una vita semplice. You think this is the only way? Yes. As per he knows, actually I am just a translator between you. He is the master? No, he is not a master, but he is a good prayer daily. Okay. He does good prayer, he does good karma daily. He feeds the fishes, he feeds the pigeons, he helps the people. You want to get the moksha? 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 As per him, he is right now in the heaven. And he says that he doesn't want to reach the liberation because he is already in the heaven. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Vengono diffuse da qui e gli esoteristi e la gente spirituale che ha voluto saperne un po' di più rispetto a quello che ci raccontava la Chiesa, ha attinto da queste fonti qua, che naturalmente continuano a credere ciecamente e fermamente in queste dottrine. Per cui non è che io li voglia mettere a dura prova, però voglio in qualche modo vedere il loro punto di rottura dove sta. E se ci sono dei punti di unione, naturalmente li fai ragionare un attimino e ti dicono sì, è una trappola. Beh, ma è chiaramente una trappola, però bisogna ragionare un po' su questi fatti qua naturalmente. Come si può dire a questa gente che sta nutriendo gli arconti? Chiesa, questa è anche una trappola. E' la droga molto sciogliale. Si, una droga. Quindi ti portano in un luogo dove c'è il Dio Shiva che sa tutto delle tue incarnazioni passate, tutto ciò che hai fatto. Come evitare la reincarnazione? Quindi per riuscire a scampare alla reincarnazione bisogna pregare, fare mantra e anche diverse cose. Ci sono migliaia di mantra per diversi giorni. Cosa c'è il fatto che viviamo in una sorta di illusione? Maia? 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 Maio? Maia? Maio? Maio se muesternanno i soli accolgono a Gio e poi poi si faranno una buona karma o una buona karma. E se facciano una buona karma poi si faranno una buona karma e lo rifiuteranno. Non ci sono come una roba. Molte persone dicono che quando dieci si troviamo in un tunnel in cui vogliono travi te. Non ho capito il significato di un tunnel. È come una luce. È come una galleria. È come una galleria. È come una galleria. Do you know che c'è una galleria di luce? C'è un po' di come una galleria di toccato. Non. Non, non. Non ci sono. Per cui, questa p份o è una pungita in cui vogliono. C'è il genere di fare per la morte per la morte che aveva un amador. C'è un po' di pungita? C'è un po' di pungita. Che è una pungita? C'è un po' di pungita. C'è un po' di pungita. C'è un po' di pungita. se si 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 è un angelo per le persone. La storia reale fa anche qualche attacca ai sadhus e a volte i sadhus saranno morti. Oggi ci saranno molto attenti. Perché devi essere attenti? Dice che dopo la morte possiamo incontrare differenti figure tra cui anche i sadhus e di stare attenti. Per cui dovremmo essere attenti? Il tipo a cui stavo facendo domande gli ha suonato il telefono e si sta allontanando. Peccato. Dice che bisognava stare attenti a queste figure che si presentano. Volevo chiedergli perché. Chi sono queste figure? Anche lo yogi sta andando via. Dunque, rimaniamo con qualche domandina irrisolta. Chissà se avrebbero potuto rispondere a tutte queste domande. ma vedremo se prossimamente troverò qualcuno che ha voglia di rispondere a tutte le mie curiosità. Tu cosa dici? Non è che ci rispondi te. Parla, forza. Volevo chiederti. Maximo, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.